Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendiamo il fronte fino al partire generale nemico Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo Prendete tutti gli obiettivi in un settore e passate al successivo